Rivolgo un appello a tutti, ai cittadini, alle organizzazioni che vogliono conoscere meglio il progetto, a coloro che hanno dubbi e li vogliono esprimere in modo formale di fronte alle istituzioni, in un processo che è garantito dalla legge e monitorato anche da un osservatorio nazionale, dobbiamo prendere sul serio questa grande opportunità di partecipazione democratica e di confronto. È un invito accorato quello del sindaco di Firenze Dario Nardella a prendere parte al dibattito sul nuovo masterplan dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, chiunque vorrà infatti potrà dire la sua sul nuovo progetto che prevede tra le altre cose una nuova pista di volo di 2200 metri, più corta di 200 metri rispetto al primo progetto contro i 1650 attuali, parallela alla 11 e dotata di un nuovo terminal passeggeri. Il dibattito, coordinato da Avventura Urbana, società di consulenza individuata da Toscana Aeroporti in raccordo con ENAC, che affianca amministrazioni pubbliche e private che vogliono attivare processi di comunicazione, democrazia partecipativa e mediazione, terminerà il 10 gennaio 2023, data dell'ultimo incontro, dopodiché sarà redatto un dossier con tutte le proposte e a quel punto si potrà calendarizzare l'iter verso l'avvio dei lavori, forse già entro la fine del 2023. Ma che peso avranno le osservazioni che potranno arrivare? Non saranno vincolanti, ma la legge del 2018 che disciplina il dibattito pubblico è di fatto la garanzia che ciò che emergerà non finirà in un cassetto, ma anzi sarà fondamentale per lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze. Per il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni si tratta di un primo passo storico e l'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli è positivo anche per il rinnovato clima politico entro il quale si svolgerà il percorso partecipativo. Primo passo direi storico perché la prima azione dell'iter amministrativo che ci vuol consentire di arrivare alla pista declinata, la pista secondo il nuovo progetto che è stato presentato, 2200 metri che possono ridurre fortemente l'impatto ambientale sul piano acustico, non ci sono più di qualche centinaia di persone sul cono di volo laddove oggi invece sono 50.000 le persone che ogni volo di aereo ascoltano il rumore a Brozzi, a Peretola, a Quaracchi, alle porte di Novoli, a Mantignano, a Ugnano, a Sollicciano, insomma fra 50.000 persone e poche centinaia la differenza è molta, ma anche riduzione da un punto di vista dell'inquinamento atmosferico perché è indubbio che una pista più lunga consente non la sgassata per la partenza o la frenata per l'atterraggio dell'attuale pista di 1.650 metri. Mi pare che sia nuovo anche il clima politico, compreso quello degli amministratori con termini perché c'è un clima di attesa, mi pare di positiva generale predisposizione. Del resto il procedimento è molto garantista, il dibattito pubblico avviene già su quello che formalmente è uno studio di fattibilità ma sostanzialmente un vero e proprio progetto preliminare. Aperto a tutte le persone interessate il dibattito si articolerà in quattro incontri pubblici che si terranno in modalità mista e che prenderanno il via il 15 novembre e ai quali seguiranno quattro incontri specialistici. I quattro incontri tematici saranno aperti a tutti quanti, organizzati per trattare le tematiche che sono risultate come le più dirimenti da quell'indagine conoscitiva che è obbligatorio svolgere nella fase di progettazione del dibattito pubblico con tutti gli stakeholder territoriali. Quindi queste tematiche saranno le ragioni dell'opera, le alternative studiate, gli aspetti ambientali e i paesagistici, le ricadute economiche per il territorio e quindi anche il rapporto con l'aeroporto di Pisa, con quello di Firenze e l'accessibilità e l'inclusione nella progettazione per queste opere che sono previste dal masterplan.